La prima, Botafogo in Promenade e Contra Promenade e 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6. Ora faremo una figurazione già vista nel fascicolo precedente, il Size Samba Walk e il Samba Walk. Faremo i passi da 4 a 6 più 1 a 6 e 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6. Per proseguire con un solo spot volta a sinistra per Stefano e a destra per Annalisa e 1 a 2, a 3, a 4. Proseguiremo con corta giaca e slow, quick, 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 whisk a sinistra e a destra, 1 a 2, 3 a 4. Ora movimento base rovescio girando un quarto a sinistra e 1 a 2, 3 a 4. Per concludere con un giro rovescio e 1 a 2, 3 a 4. Siamo in posizione per poter riprendere l'amalgamazione dall'inizio. Adesso la vediamo con la musica. Bellissimi i nostri ragazzi. Grazie e soprattutto bravissimi.